normale un tipo di esperienza dialoghi in italiano dialoghi in italiano con sottotitoli in italiano dialoghi in italiano con sottotitoli in italiano e gesticolazione aumentata dialoghi in napoletano sottotitoli in veneto e bestemmia la bergamasca ma che cazzo modalità kurosawa filtro in bianco e nero con i dialoghi in giapponese sottotitoli in italiano ispirata al leggendario regista akira kurosawa ma parca traia come cazzo mi hai vestito io devo andare a fare il culo alla gente così sembra un la cazzo mi onorate con la vostra sicurezza signore vaffanculo armi spettrali evolutive ok rega basta schiacciare il cerchio poco prima di atterrare ce l'ho sono atterrato no credo di aver fallito credo doscio ok la mia strat è infallibile ora loro salgono e muoiono oh cazzo ma è finito è salito rambo ma cosa ah 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 mi ha lanciato giù doscio niente le porte non si aprono mai come usciremo mai da qui da qua ops porca what ah 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 Minchia, oh, arrivo, arrivo Giù di qui dobbiamo andare Porca troia I'm sorry, brava, sei sceso anche tu Sì, perché da qui si continua a piedi Yeah Quando ero malata mi fece fare il bagno lì Sì Immagino Andiamo dalla sorella di questa Dov'è che ha detto che è? Allora, nel codice dei samurai non si esce mai da dove si entra Arrivederci No, doscio No, dai che merda Mi ha baitato, si è abbassato come se spararsi da dietro di lui Invece ha sparato da dietro di me Porca puttana, ho tirato la monettina, ho sbagliato Pensavo fosse una bomba Ehm, c'è bisogno di un piano B Vai tank, è il tuo momento Ehm Beh, ehm Siamo in una situazione di stallo Porca puttana, ma che cazzo È arrivato il smog, il drago Ma cosa cazzo è stato, raga Ah, questi sono con me Pardon Ok, ok, allora Fuoco da destra Fuoco da sinistra Tutti in campana Schifate le frecce Ma veramente Ma non sono andato neanche nel fuoco, raga Cioè, sono morto di calore generato dalla fiamma A distanza What the fuck Ah, se lo guardi ci metti una vita Se sei di schiena arrivi in un secondo, guarda, eh Ma porca puttana Grazie a tutti